Un incontro intenso, cuore a cuore, sulle note scandite dai circa 6.000 partecipanti al Congresso Internazionale dei Pueri Cantores. In aula Paolo VI, Papa Francesco ha risposto alle domande formulate da alcuni bambini, intessando con loro un dialogo aperto e sincero. Tanti temi toccati da quello del canto, che educa e fa bene all'anima, a quello della bontà, che deve essere sempre preferita alla rabbia, che è una malattia. Anche io mi arrabbio, ha confessato il pontefice scherzando, ma non morto. Cercate di non sgridare le persone, ha proseguito e non fate come alcuni che sembrano essersi lavati i denti con l'aceto. Parlando dei buoni propositi per il 2016, Papa Francesco ha dichiarato di voler pregare di più e ha chiesto a tutti di camminare verso il Signore, l'unico davvero buono. Tra i ricordi del passato, confessando anche che sognava di fare il macellaio da bambino e constatazioni sul presente, il pontefice non ha mancato di ricordare che nel mondo c'è sempre una lotta serrata tra bene e male, ma che pur dinanzi a tante brutte cose, prime fra tutte le guerre e la povertà, con i bambini che non hanno di che sfamarsi o non possono ricevere un'educazione o cure mediche, ci sono pure tante cose belle, anche se la televisione non le pubblicizza. Anche se nel cuore dell'uomo sembra avere maggiore presa il male, ha concluso, Dio è sempre all'opera con i suoi santi nascosti.